Mai una volta che si possa mangiare in pace! Sì! Sì, vai! Sei tutti noi! Li ho visti, c'è anche Frollo! Grazie, Prizzi. Sei forte! Per fortuna non è servita la magia! Ed ora sotto a chi tocca! Devo raggiungere Frollo! Non ce la faccio, Prizzi. Frollo, sono qui! Ma allora mi dici chi c'è dentro il mio tritato? TJ, mi occuperò dopo di lui. Prima devo bloccare i gigantropi. Che meraviglia! Ho finito di pedalare! Non mi lascerai mica metà strada, no? Sgraccherò un po' le mie gambe. Ma che fai? Dove vai? Non lasciarmi! Aiuto! Dove sono? Perché te ne sei andato da solo? Perché te ne sei andato da solo? Perché te ne sei andato da solo? Non fate altro che rimproverarmi. Basta, me ne vado il più lontano possibile. Prima vi allontano da voi, prima arriverò all'elemento terra. Perfetto! Da quassù è più divertente giocare ai birilli. Il nemico ci attacca! Papà, entriamo qui dentro! Entriamo! Saremo sicuro! E una è fatta. Dove siamo? Non so, non ho mai visto questo posto. Li ho fatti io, sì! Visto che siamo qui, ve li mostro. Che noia! Questo rappresenta il mio adorato papà. Quello sgorbio, io sono molto più bello. La natura si sta vendicando di noi! Nascondiamoci! Ma è due! No! No, no! Adesso mi tocca rifare tutta la strada!